Avviare il cantiere dei lavori per il recupero del Museo del Mare nei primi mesi del 2022 è l'obiettivo del Comune di Pescara che ha approvato il progetto esecutivo delle opere. Il recupero del Museo del Mare nell'area della Madonnina diventa realtà ed è stata finanziata per oltre un milione di euro anche la nuova asta del pesce, precisa il sindaco Carlo Masci. Nei giorni scorsi abbiamo approvato il progetto esecutivo, 600 mila euro di lavori per intervenire sul risanamento e sulla riqualificazione dell'edificio che sta in prossimità della Madonnina. Poi ci sarà un secondo appalto di 400 mila euro per gli impianti, nel frattempo partirà questo, realisticamente i lavori cominceranno nei primi mesi del 2022 per concludersi prima della fine del 2022. Quindi prosegue Masci, entro la fine del 2022 la struttura potrà essere restituita alla città dopo 20 anni e conterrà anche il Museo delle Genti di Mare. Perché noi abbiamo il Museo delle Genti di Abruzzo, però siamo una città di mare e non abbiamo il Museo delle Genti di Mare. Invece la nostra tradizione, la nostra storia, la nostra cultura devono trovare spazio all'interno di un Museo delle Meraviglie Marine come quello che noi avremo con dei reperti eccezionali e che mi auguro tutti i giovani e i meno giovani di Pescara possano visitare nel più breve tempo possibile perché oramai sono trascorsi oltre 20 anni dal momento in cui il museo è stato chiuso e quindi credo che sia giunto il momento di rimetterlo in pista per aggiungerlo agli altri musei che oggi a Pescara ci sono. Non solo il Museo del Mare alvia in corso i lavori che cambieranno il volto della città, conclude Masci. Noi in questi due anni ci siamo impegnati proprio per far ripartire il motore della città e oggi vediamo tanti appalti in corso, tanti che ci saranno nel 2022 che ovviamente creeranno qualche disagio per una città certamente migliore, più bella, più vivibile e più a misura d'uomo. Intanto la sonautica di Pescara per bocca del presidente Francesco Di Filippo ringrazia il sindaco Masci per aver confermato e approvato, si legge in una nota, la nostra proposta avanzata alle amministrazioni precedenti da oltre 10 anni per la realizzazione di un museo dedicato alle genti di mare. Di Filippo cita i simboli quali trabocchie e paranze e sottolinea l'importanza della civiltà marinara pescarese e abruzzese. Grazie a tutti.